primo tempo del match bad man già sai si comincia di nuovo scierrotesa del piano poi granata si fa ammurare da del piano granata granata il vantaggio già sai questa volta del piano non è impeccabile dell'uno a zero maestro giro un gol bellissimo di pasquale maestro ma nell'intro non è troppo non è carino questo per metterlo nell'intro il martedì maestro maestro mai dilagano già sai il 3 a 0 di pasquale maestro la doppietta per lui ritornata il campionato no così no non l'ho visto non lo so avoglio col destro del piano secondo tempo di bad man già sai vedrà come sempre c'erro la battuta col mancino c'erro c'erro sfonda la porta c'erro ed è il 4 a 0 poi c'ho di c'ho più mamma mia c'erro col tacco incredibile il palo c'erro se la porta sul mancino c'erro la deviazione il 5 a 0 di c'erro ha detto pasquale che l'ha fatto lui il gol tutto su cerro dall'altra parte cercare maestro ancora cerro cerro la mette a terra cerro il 6 a 0 anche cerro la tripletta per lui devi superare la ciotola cerro stacca niente cercare cerro tutto solo cerro con del piano a tu per tu ed è il 7 a 0 del tanque cerro ha finita dall'altra parte verso cerro di testa c'è la rete di cerro il 7 a 0 7 a 0 bombe 8 a 0 8 a 0 cerro che cosa non l'avevo buttato pure non l'avevo condizionato granata verso cerro il 9 a 0 di cerro ragazzi giochiamo l'ultimo più mangiare più facile chi facciamo è tanque siamo qui con Maisto migliore in campo nel match vinto dalla Giassi per 9 a 0 Pasquale tanti gol tanti assist ma la partita facilissima per voi sì facile l'avversario è un facile livello diciamo poi è stato lo stesso una bella partita un'ora agli avversari complimenti al Massimo che ha fatto 6-7 gol quindi speriamo di continuare così per vincere il torneo Pasquale peccato che non ci sia una classifica assist man altrimenti saresti tra i primi tre e speriamo allora di vedere temi al centromampista e Massimo capo canone ringraziamo Maisto della Giassi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti